Non cambi più la macchina e neanche tu tv, ce n'è uno piatto di più, che a suo confronto è grasso, il vecchio che c'hai tu. Vedete, beh tu sto un po' piccino, che prima ti durava un mese o giù di lì, perché ti serve ormai così, la tua agenzia di viaggi c'eri ogni venerdì. Ora praticamente io è come se avessi tre bambini di Enzo, in senso gli altri stati loro si cazzo, adesso vale detto, ha parlato con lui, ma non mi direi che la crisi, proprio tu, sei sempre stato ottimista, non mi direi che la crisi, come te positivi, sanno sempre far festa, non mi direi che la crisi, proprio tu, tu dalla parte vincente, ti accommette gli attributi, io manageriali. La crisi mica ne sente, com'è? Il rischio della democrazia, per essere troppo democratico, tutti se ne hanno affinato. È un quarto dove ha stato un bucaniere con solo i suoi dovuti, è un quarto dove ha fatto scomibande da tortuga in giù, è un quarto dove ha fatto dei tesori, gli ha sepolti da riso e milioni. il capitano che fa il bambino, c'è il plenilunio, gli prende una spagna steppitosa e vi andrà tutti quanti, diventando qualche scusa tra la tela coglia dolosa, con le sue aricumpe lui tutta via la giacca, galoppa un poco storto e appare dritto in cima ad una rupe ed è lì che noi vediamo il suo volto, ansi muso spunta il ponte mobile, mette zane a sciavola spunta un teoristico, da sua disce Giuliano è un ricantrofo vegano